Due individui di nazionalità marocchina sono stati fermati nel pomeriggio di ieri dai carabinieri della stazione di Olevano sul Tusciano. I due, sospettati di aver compiuto alcuni furti sul territorio, viaggiavano a bordo di un'auto risultata rubata. Entrambi sono stati denunciati a piede libero per ricettazione, su disposizione dell'autorità giudiziaria. L'auto è stata riconsegnata al legittimo proprietario.